L'ultimo punto dell'ordine del giorno è l'integrazione con la determinazione dell'aliquo tradizionale IETF dell'anno 2013. In un primo momento si era pensato di fare diversi step di raccorte Fissando diversi scaglioni. Purtroppo dai conteggi che avevamo fatto non avremmo aumentato l'incasso Anzi l'avremmo diminuito. Quindi non è stato possibile fare questa cosa Anche perché la legge gli impone o non aumentano sempre tutti oppure differenziando Però volevo dire che solo alcune categorie andavamo a gravare troppo La proposta è quella di aumentare in punto arrivando allo 0,50% di adizionare IETF su tutte le categorie In modo da unificarle e parificarle ovviamente ognuno verserà secondo dallo stipendio dichiarato che guadagna Però abbiamo pensato di introdurre un'esezione per chi guadagna di sotto dei 10.000 euro E' una sensibilità che ovviamente ci porta a prendere in considerazione chi guadagna veramente Ha un rendito annuale veramente basso e che dunque faccia di scufatica a tirare la cabrette Questo è sostanzialmente quello che proponiamo Altro non c'era da fare e quindi ci vediamo un po' costretti a fare anche questo sacrificio Se ci sono osservazioni favorevoli Grazie Grazie